Dobbiamo raggiungere un milione di firme al quale chiediamo appunto all'Europa che come accade in Italia venga scritta in etichetta l'origine dei prodotti. Questo è un punto di partenza fondamentale, è una trasparenza per il consumatore perché non c'è libero mercato, non c'è libero scambio se non c'è trasparenza e trasparenza vuol dire anche fiducia. E la raccolta firme per la tutela dei prodotti made in Italy approda anche a Bassano a favore di una proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza del cibo sulle tavole italiane. Banchetti in Piazza Libertà quindi domani, domenica, in occasione della campagna amica e della mostra a mercato della Sparago Bianco di Bassano con i giovani di Col di Retti che scenderanno in campo per una battaglia contro quella che Guderzo chiama invasione di prodotti stranieri che mettono a rischio la salute dei cittadini e il futuro dell'agroalimentare tricolore. Dopo le prime sottoscrizioni raccolte al presidio del Brennero, ora l'obiettivo è raggiungere un milione di firme per dire basta ai prodotti importati e camuffali, come italiani, e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo quindi l'obbligo dell'indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell'Unione Europea.